Per lavoro dignitoso si intende un lavoro che sia produttivo e che assicuri un giusto reddito che garantisca sicurezza sul luogo di lavoro e protezione sociale alle famiglie, così come prospettive di crescita personale e integrazione sociale. Lo sostiene il segretario generale della UIL Agrigentina Gero Acquisto. Da tempo, continuo acquisto, la UIL con il suo segretario nazionale Pierpaolo Bombardieri rivendica più diritti e tutele per i lavoratori a cominciare dal diritto al lavoro dignitoso. La situazione che stiamo affrontando deve farci riflettere sul modello di lavoro attuale. Precariato e contratti a tempo determinato la fanno da padrone. È il momento di invertire questa tendenza. Noi rivendichiamo lavoro stabile, di qualità, basta precariato. La provincia di Agrigento da tempo in memore è all'ultimo posto per qualità di vita e opportunità di lavoro. Il segretario della UIL di Agrigento Gero Acquisto evidenzia la forte correlazione tra lavori sicuri e una crescita economica stabile e inclusiva, una prolungata mancanza di opportunità di lavoro dignitose. Investimenti insufficienti e sottoconsumo portano ad un'erosione del contratto sociale di base a fondamento delle società democratiche. I giovani in età lavorativa devono avere la possibilità di pensare al loro futuro, formarsi una famiglia, acquistare una casa e non vedere la pensione come un privilegio di generazioni passate. Attualmente avere un lavoro non è uguale ad avere un lavoro dignitoso. Difatti numerosissime persone occupate vivono sotto la soglia di povertà non riuscendo a soddisfare i propri bisogni primari. Non è un caso se il lavoro dignitoso è uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 e noi come organizzazione sindacale siamo in prima linea per raggiungere questo traguardo importantissimo, ridando dignità al lavoro e dai lavoratori.